ecco il bellissimo albero di natale realizzato dai bambini della scuola del tifo in collaborazione con il centro di coordinamento degli empoli clubs che è stato adestito come ogni anno come ogni natale qua nella nella maratona la maratona inferiore dedicata a demiliano del rosso possiamo vedere la targa appunto vicinissima a questo bellissimo albero di natale da dire che tutti gli addobbi come potete vedere dal dettaglio del video sono stati realizzati interamente con grande amore con grande passione proprio dai dai bimbi guardate che spettacolo questa maglietta con tutte le facce dei giocatori azzurri veramente veramente bello veramente una bella cosa non solo per gli occhi ma anche e soprattutto per il cuore davvero complimenti davvero complimenti a questa stupenda iniziativa della scuola del tifo organizzata dal centro di coordinamento del tempo di clubs e complimentoni a tutti i bambini a tutte le maestre che aderiscono ogni anno a questo splendido progetto grazie grazie Grazie.